ciao c'eravamo lasciati con questo gatto che oscillava su e giù come scala e vediamo che altri tipi di animazione possiamo fargli stiamo facendo delle animazioni che non sono quelle frame per frame che abbiamo fatto all'inizio ma stiamo mettendo insieme le classiche animazioni di blender per quello anche molte delle cose che vi dirò se non siete pratici di blender potreste non conoscerle se invece conoscete già blender troverete esattamente gli stessi metodi per animare che si usano per le mesh e quindi piano piano vi consiglio comunque di seguire un corso di animazione di blender proprio perché molte cose che si fanno con green pencil sono le stesse cose che si fanno normalmente con blender allora qual è il vantaggio di aver diviso il nostro disegno in tutti questi layer che per esempio posso spostarli e trasformarli separatamente quindi abbiamo per esempio l'opacità che ci permette di nascondere un layer o l'altro ma per esempio sotto transform vedete io posso spostare separatamente un layer dall'altro ovviamente potrei animare vedete qui ci sono le possibilità di animare queste proprietà è un pochino scomodo e fate caso invece che è possibile utilizzare delle relazioni quindi dare dei genitori ai layer quindi un modo pratico e veloce per poter animare qualcosa e associargli degli altri oggetti e poi animare gli altri oggetti esterni quindi un modo facile potrebbe essere andare a creare per esempio se volessi muovere il volto vado a creare in una posizione diciamo che possa essere comoda per me un oggetto empty quindi sotto empty posso scegliere anche diverse forme magari in questo caso potrei scegliere circle semplicemente l'empty non ha nessun motivo posso cambiare in qualsiasi momento la forma circle in questo caso semplicemente mi sembra più facile da gestire e lo rimpicciolisco un po tra l'altro se ne sta in questo momento dietro il gatto se lo sposto un po avanti così lo vedo adesso quindi lenti si trova qui siccome ha già un valore di scala perché l'ho rimpicciolito potrebbe quindi se io lo animassi prendere questo valore è meglio che io mi ricordi questo 04 circa applico rotation e scale e indico qui la dimensione del cerchio che è un po più facile da gestire e guardate questo magari gli do un nome per riuscire a capire quindi che ne so controllo volto ora che ho questo empty nel gatto il le linee del volto e il colore del volto io sotto relations posso associarla a questo empty prendo il contagocce e lo clicco controllo volto e vedete si è spostato perché il il centro del volto prima si trovava qua giù quindi vedete questo è il centro dell'oggetto siccome io lo faccio gli faccio diventare genitore questo lui applica alla stessa distanza questa a quest'altra posizione diciamo che quindi questo metodo è un pochino scomodo perché ogni volta ci sposta l'oggetto utilizziamolo comunque momentaneamente per farvi vedere come funziona posso associare appunto le linee del volto vedete che apparso anche un ossicino proprio per dire e anche il colore entrambi a controllo del volto e allora adesso con questo empty spostandolo in giro posso spostare il volto del gatto ovviamente come ho detto è un po scomodo averlo diciamo così distante quindi annullo questi due parenting che ho fatto ricordatevi che è un metodo che funziona utilizzare degli empty per spostare alcuni livelli però appunto in genere va bene per cose molto semplici il problema è dovuto al fatto che il mio gatto si trova con una z di meno 1,3 perché abbiamo appunto spostato l'origine ricordate per poter fare questa animazione non posso neanche applicare le trasformazioni al gatto perché che succede adesso la scala non avvenne più nell'ordine in cui volevo la cosa migliore per le cose complesse è creare dei rig invece di usare questi empty tenete conto che a volte possono bastare un rig invece è sempre una buona soluzione perché possiamo metterlo nella stessa posizione del gatto quindi ora appunto con il cursore come si trova adesso nella stessa posizione del gatto creo un'armatura dovete conoscere il rigging in blender per sapere cosa significa è un argomento molto ampio io ho fatto un corso di rigging che trovate su blender.it il portale dell'associazione italiana di blender se siete iscritti è un corso gratuito altrimenti è comunque possibile comprarlo ed è proprio le basi del rigging per per imparare il rigging nel 3d ma in green pencil nel 2d è la stessa cosa allora se questo via la chiamo gatto rig un rig al vantaggio di poter avere diversi bon quindi ora in questo rig io lo porto davanti per riuscire a vederlo bene vado in edit mode questo per esempio è il bond del volto e anzi questo teniamolo per il gatto e lo chiamo root che è il bon principale adesso aggiungo un altro bon che seleziono e porto qui magari lo scalo e lo porto lì per poter appunto governare il viso e quindi questo lo chiamo volto lo faccio diventare figlio con offset del bon principale così se adesso vado in in pose mode se ruoto questo ruota anche lui e ora ho questo bon e posso utilizzare il rigging per il layer quindi volto line posso dargli come parent il rig e invece di oggetto scelgo bon e scelgo il bon del volto è spostato di nuovo ma perché appunto abbiamo questo problema della z ma adesso che abbiamo a disposizione i bon possiamo fare tutto quanto tramite il rig quindi tolgo di nuovo il parenting posso selezionare sia il rig che il gatto e fare applica tutte le trasformazioni a entrambi in maniera tale che siano azzerati entrambi il gatto a tutto a zero il rig a tutto a zero ovviamente questa animazione la devo diciamo buttare perché la dovrò associare non al alle trasformazioni sull'asse z del gatto ma l'associerò alla trasformazione di questo bon cancello questa animazione e farò quindi un'associazione per il volto quindi per il gatto prendo le linee del volto e faccio parent del rig tipo bon e bon volto e vedete che adesso non si è spostato parent rig tipo bon e scelgo il volto adesso quando in pose mode sposterò questo bon si sposteranno tutti questo invece ancora non fa niente perché non gli ho associato niente finisco quindi l'associazione quindi corpo linee sarà root e corpo colore sarà root adesso quando questo ruota si ruota il corpo e ruota anche il viso perché attaccato al corpo ma questo può andare per conto suo e quindi l'animazione che avevo fatto prima adesso potrò farla qui quindi adesso al fotogramma 1 i della scala al fotogramma 20 scala z e rimpicciolisco il gatto nel punto in cui volevo e faccio di nuovo i e poi a fotogramma 40 alt s faccio di nuovo i e adesso ricreato questa animazione che di nuovo selezionando tra l'altro adesso a me basta solo l'animazione questa sull'asse y in questo caso come il bone in alto e l'asse y e quindi faccio un make cyclic qui e ho ricreato la stessa situazione con un bone invece che con le caratteristiche dell'oggetto rimangono ancora tutti questi layer non si muovono perché non hanno i loro pezzi quindi adesso li creo vado in edit mode duplico questo potrò decidere in che modo nascondo un attimo il cuscino per vedere meglio in che modo rigare per esempio potrei dividere in due questa zampa e quindi questa diventa zampa 1 e questa è la zampa destra e ci metto la r per la classica nomenclatura in blender vi consiglio di utilizzare r ed l e poi questi due li duplico e questo diventa l l e poi devo creare la coda facciamola semplice per ora questa la chiamo coda ora ho questi due e vedremo come usarli e la coda che tra l'altro come vedete ho posizionato lì se è troppo scomodo vedere in questo modo invece di octraedral possiamo scegliere stick e sono un po più comodi da vedere ora quindi posso tornare qui dal mio gatto e guardate se associo la coda al rig con bone coda e quindi anche il colore rig col bone coda adesso qui quando muovo questo si muoverà la coda questo è un rigging statico diciamo cioè questi oggetti non non possono essere possono essere ruotati i bone possono essere scalati anche su un asse solo quindi per esempio questo per poter animare però appunto in questo caso che ho fatto velocemente della coda non posso muoverla e ruotarla qui li ho suddivisi appositamente in due per poter diciamo immaginare di muovere le zampe del gatto quello che immagino è di poter fare questo però come faccio visto che la zampa è tutta su un unico layer vedo che la zampa è tutta su un unico layer in questo caso devo usare il weight painting ed è un argomento che vedremo nella prossima lezione tra l'altro nel caso dell'armatura io qua credo esatto di essermi dimenticato di farlo questi due sono figli del bone di root ma la coda ancora non lo era quindi seleziono questi due ctrl p keep offset e adesso se muovo appunto questo bone si muove anche la coda ma la coda può muoversi quindi questo è un primo modo di associare i layer in maniera rigida a degli altri oggetti o a degli altri bone per creare delle animazioni quindi ora per esempio completiamo un attimo un animazione per esempio per il volto potrebbe essere che nel primo fotogramma questo bone si trova qui e quindi premo i facciamo di whole character selected bones quindi del bone del volto magari al fotogramma 30 si trova leggermente spostato e lo scalo sull'asse z un pochino e magari anche lo alzo e faccio i di available così li ha registrati tutti e vedete non sta l'ho fatto al fotogramma 30 appositamente per spostarlo rispetto all'altro e quindi magari adesso lo ripristino al fotogramma 60 e quindi ripristino questi alt g per la location e alt s per la scala e salvo di nuovo available e quindi adesso se faccio play si muove ma in maniera diversa posso andare di nuovo nel graph editor e qui ho tutti i valori in realtà la rotazione non la sto usando per cui butto via tutte le curve di rotazione e anche per la scala alla fine sto usando solo y questo lo faccio quasi sempre di ripulire un pochino e seleziono tutti questi canali e di nuovo maiuscolo e make cyclic e adesso ho il volto che si muove in un modo ciclico e il gatto che si muove in un altro modo con un altro ciclo e quindi ho creato questa questa piccola animazione in loop non è esattamente in loop perché il primo si ripete ogni 40 l'altro ogni 60 e quindi è meglio che la durata dell'animazione sia un multiplo di entrambi e di conseguenza non 250 sono 240 che è multiplo sia di 60 che di 40 e quindi quando sarà arrivato alla fine ricomincerà esattamente uguale senza senza problemi insomma quindi questo è il rigging molto veloce di un oggetto grease pencil vediamo il rigging quello un po più complesso nella prossima lezione ciao e alla prossima